Siamo Pignani per la notizia.net, siamo qui da Giulianova presso il Palacastrum dove oggi si sta svolgendo una gara nazionale di karate, anzi una gara interregionale con Abruzzo e Marche qui abbiamo uno degli organizratori, il maestro della scuola del karate di Giulianova, Davide Pandoli come è andata, come sta andando questa iniziativa e la tua impressione dell'evento a caldo? Buonasera innanzitutto, ringrazio il signor Cristiano, è stato un bellissimo evento come diceva il nostro dottor Cristiano, oggi c'è stata la partecipazione di 250 atleti circa dalla regione Marche Abruzzo, da che provincia sono arrivati? Sì, la provincia, la regione era Marche Abruzzo, c'era Pescara, Tagliacozzo, L'Aquila, L'Aquila, San Salvo Ascoli, poi è stato anche in Porta Giorgio, Macerata, sì, Macerata, 250 atleti, poi immaginiamo come i genitori, è normale che era un'affluenza di genitori, di pubblico che metteva ora come diceva il dottor Cristiano, una gara interregionale innanzitutto, che era aperta per i bambini e i veterani, adesso stavamo quasi per svolgere il termine, verso 19, un buon risultato con la presenza anche del sindaco Ivan Costantini che è stato premiato insieme a Giulianova, insieme alla vice sindaca Lidia Albani, siamo da salutare, ed è rimasto molto meravigliato e molto contento. Ma ricordiamo, cioè vogliamo sapere noi, qual è stato lo scopo di questo evento, cioè cosa vi siete prefissati con questa manifestazione? Innanzitutto far divertire i ragazzi, i bambini, dai 4 anni in poi, che sono tutti divertiti e tutti premiati, tutti premiati, lo scopo è di portare questi bambini al massimo dei risultati con il massimo divertimento, è normale che... Quindi non è stato un evento agonistico? Non agonistico, perfetto, ma era di promozione, gara promozionale, perfetto, sì, non agonistica, bravissimo. Grazie, ringraziamo il maestro Davide Pampoli di Giulianova, cintura nera a quarto d'Anna, da Cristiano Vignaletti, tutto qui da Palacastrum per lanotizia.net. Buonasera. Grazie.